quest'anno ci presentiamo host con una gamma di soluzioni integrate mai vista prima dalle soluzioni legate al punto casta quindi ai cash register ai pc post ma anche tutte le soluzioni integrate legate al mondo delle bilanze ad esempio con l'ultima gamma e della famiglia icona in quest'ultimo periodo il gruppo ha ascoltato molto le esigenze del mercato e in questo senso abbiamo dato risposta con tutte le soluzioni legate al self service tutta la parte legata ai chioschi ma anche alle soluzioni di clicking to collect che sono chiaramente più conosciute nel mondo della gdo stanno registrando grande successo parlando di digital transformation anche custom con tutta la parte di ricerca e sviluppo ha cercato il più possibile di rendere digitali tutte le soluzioni legate al punto vendita in questo senso abbiamo sviluppato delle soluzioni tecnologiche di robot automation come ad esempio delle soluzioni legate a dei robot adatti ad aiutare tutto il personale di sala nella consegna di tutto quello che riguarda un ristorante in questo senso si riesce a creare anche un supporto per il personale di sala ma anche di intrattenimento legato alle soluzioni di robot automation per quanto riguarda le soluzioni in ambito retail oreca più in generale tutta l'hospitality stiamo registrando grande interesse per le soluzioni di self service e self checkout qui alle mie spalle c'è una delle ultime soluzioni che si chiama glass e questo sta riscuotendo proprio interesse perché aiuta il punto vendita e il retailer sia in termini di efficienza all'interno del punto vendita ma anche soprattutto in termini di turnover generale perché abbiamo identificato sulla base di studi interni che abbiamo fatto che ogni volta che una persona va ad acquistare utilizzando queste tecnologie è più diciamo invogliata ad acquistare anche ad aprirsi anche a promozioni cosa che non succede con i punti di cassa classici a e a 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